E' il 21 dicembre 1970, quando un tizio vestito con un abito nero di velluto, una camicia dal colletto aperto più un cinturone da un'enorme fibbia tempestata di diamanti, fa il suo ingresso dove? Beh, nello studio vale della Casa Bianca e dice, salve mister presidente, credo che lei mi stesse aspettando. Beh, dopo un po' di silenzio il presidente, l'uomo più potente al mondo, dice, ma che cosa avrò mai fatto? E allora risponde, vesti un po' selvaggiamente figliolo. Di nuovo a pausa. E il primo ad un certo punto dice, beh, mister presidente, lei deve portare avanti il suo show e io il mio. Chi saranno mai questi due, diciamo, protagonisti che da lì a poi avrebbero iniziato a conoscersi? Beh, questa è solo una delle tante storie all'interno di storie di ordinaria follia rock, che vi racconterò domani mattina con la musica che è anche presente all'interno di queste storie. Naturalmente musica rock, come sempre alle 9.30, ritorniamo insieme dopo un paio di settimane in cui non ci siamo visti, per cui vi aspetto domani mattina alle 9.30, come sempre, sul nostro canale YouTube, la radio con voi, ma soprattutto la musica rock. Quindi io intanto vado a farmi ancora merenda, mi leggo questo bel libro e domani ve ne racconto un pezzo mettendo un po' di musica. Ciao!